Il nostro porto è uno dei pochi in Italia che ha due tipi di controllo, l'ingresso principale e poi all'ingresso di ogni tipo di attività. Il porto di Salerno è sicuro, risponde così il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martirreno Centrale, Andrea, annunziata alle dichiarazioni rilasciate ieri dal procuratore Giuseppe Borrelli, che a margine della conferenza stampa, nella quale ha illustrato i dettagli del maxi-sequestro di anfetamine nello scalo infrastrutturale di Salerno, non aveva risparmiato critiche rispetto alla scarsa attenzione ai controlli all'interno dell'area portuale. Annunziata ha invece ricordato che ci sono già 300 telecamere e ne arriveranno altre 90, oltre ad uno spiegamento ingente di forze dell'ordine. Mi dispiace leggere queste cose perché i problemi ci sono nel porto come ci sono dappertutto, per strada. Un porto è ancora più sensibile, però avere 300 telecamere, avere in fase di completamento, ma completamente con altre 80-90 telecamere, per cui il grosso è stato fatto. Forze di polizia, carabinieri, dogane, guardi di finanza che 24 ore su 24 lavorano per la sicurezza, poi se capita qualche problema, per carità, cerchiamo di non farne capitare nessuno, però il problema non è uno scanner, perché 400.000 container non riusciremo mai a controllarne uno per uno tutti quanti. Il problema non è tanto il porto di Salerno e da dove partono le merci, e questo purtroppo non possiamo controllarlo noi. Quando arrivano le merci c'è tanta attenzione da parte delle forze dell'ordine, perché certo questo non è un problema che riguarda noi. I finanziamenti che saranno destinati ai controlli sono solo una piccola parte dei 130 milioni di euro che il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza erogherà per interventi infrastrutturali nel porto di Salerno. Nell'elenco delle proposte di finanziamento figurano infatti anche il primo stralcio di Porta Ovest per la realizzazione di un nuovo ramo di uscita autostradale, la fase 2 del dragaggio del porto commerciale, del prolungamento del molo Manfredi, il consolidamento di alcune banchine ed il cold aero in ingalli elettrificazione che ridurrà l'inquinamento prodotto dalle navi in sosta nel porto. La disponibilità di queste somme è importantissima perché impegnano in un porto diciamo abbastanza completo, perché a Salerno abbiamo investito tanto negli anni. Prima di tutto parliamo di elettrificazione per evitare gli inquinamenti che possono arrivare da un porto che è un'industria. Già sono stati ridotti abbastanza, è evidente che pian piano procederemo anche a questa nuova fase di transizione ecologica, quindi elettrificazione delle banchine per più di 15 milioni di euro. Grazie a tutti.